Ah Vecchio mio occhi si libera Ah Girate il video Ah Ah Tirate il video Tirate il video No per lì mi fa male Se non li si infuria Ah Se avicinano Si avicinano Quasi ha caffè Quasi la caffè Quasi la caffè Claudio Quasi la caffè Quasi la caffè Dai Dai no dudo che qui è subito Que brutto Quasi la caffè Cosa fanno? Si No Alessia Non toccarlo tu Non toccarlo Ti Che figo questa corda! Stanno girando un video! E dove fanno? Fanno un video! Continua così, Tio! Vai, nonno, vai! Nonno, stai lavorando appena! Nonno, come glielo raggi? No, no, stanno giocando! Stanno facendo un video! Continua così! Bravo Bruno, bravo! Bravo Bruno! Che video è? Lungo alto, va! Oh, oh, Claudio, ti devo portare! Che salta! Sembra un leone! Sì, è bello! E' finito il video! Bravo Bruno! Nonno, rifallo! Bravo! Rifallo, nonno! Bravo Bruno, bravo! Bravo! Nonno, rifallo! Nonno, rifallo! Nonno, rifallo! Nonno, rifallo! Nonno, rifai! Bravo! No, rifallo! bravo! Sì, rifacciamo tutta la capa ancora. Nonno, rifatelo, rifatelo. Brava. Nonno, non rifai. Ho capito. Brava. Nonno non ce la fa. E dai. Non ce la faccio. Ma lasciate che dovete ricominciare la capa. Giù, giù.